Salve a tutti, sono la dottoressa Deborah Quini, medico omeopata, faccio parte del corpo docente della scuola di alta formazione e questo messaggio è rivolto a tutti i colleghi e a tutti gli operatori della salute che hanno desiderio e che sentono l'esigenza di avere una visione diversa finalmente di approccio al paziente in modo integrato, non soltanto da un punto di vista emotivo e fisico ma anche da un punto di vista di interazione con l'ambiente che ci circonda. Ci vedremo questa primavera per parlare di bambini, di tutte le problematiche a cui possono andare incontro i nostri bimbi, soprattutto in relazione a questa evoluzione ambientale a cui stiamo andando incontro, non soltanto in termini di inquinanti chimici ma soprattutto di inquinanti elettromagnetici e anche sociali, quindi parleremo di nuove dipendenze che si stanno affacciando, come gestire le resistenze al cambiamento e come aiutare i nostri bimbi e i nostri ragazzi ad affrontare al meglio il futuro che li aspetta. Quindi ci vediamo prossimamente per parlare di questi argomenti alla scuola di alta formazione.